vanno bene i capelli così sono abbastanza pettinati che dici amore abbastanza pettinati che dite squarci di vita quotidiana in questa diretta di stampa evangelo vi saluta anche silvia nostra candidata a merano ricordo perché ha fatto pure un'intervista va bene e buongiorno buongiorno da maria di nolfi oggi faremo una diretta un po' particolare rapida per una serie di ragioni che passano attraverso il fatto che io debba registrare un po' di interviste per le varie cose di par condicio saluto per un giruppo e leutei ricordinamento territoriale alessandra bertozzi meri rossi giovanni barbaro don massimo lapponi manuela miraglia alessandra mondelli federico pieroni meri rossi dice buongiorno alla coppia più bella del mondo grazie a me si alza molto il livello della media diciamo guardate qua che bel pupetto quei capelli pettinati come piace alla gente che piace un saluto andrea tavoli monica consigliere roberto mura milena brindisi trabona silvia lodar mauro chialastri roberto bruno vi dicevo stampa evangelo molto rapida oggi non abbiamo dormito niente hai ragione cesare fanfani qui stiamo a scrivere 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 oggi ho scritto un documento di 15 pagine non so se avete visto appena pubblicato su facebook per confutare quelli che stanno lavorando solo a non far votare il popolo della famiglia e allora siccome la loro ossessione è questa noi che invece facciamo compagna elettorale per e non facciamo campagna elettorale contro ribadiamo le ragioni per cui bisogna votare popolo della famiglia tra queste ragioni forse la più rilevante lo voglio dire è la sentenza di ieri della corte che doveva giudicare marco cappato e che invece ha rinviato marco cappato alla consulta parleremo di questo nella puntata di oggi dopo aver letto la pagina di vangelo che silvia vi porterà silvia mi porti il computer per favore ecco mi porti il computer e me lo apri pure con la nostra password grazie che è che adesso la dico in diretta dovrebbe essere molto intelligente ma evitiamo di dirla in diretta se la sa pare che la sappia guardate come è impegnata la sa ebbene si la sa bene allora volevo salutarvi e dirvi intanto il documento che è il post che precede questo andate a scaricare e leggetelo fatelo condividere sono tutte le risposte a tutte le questioni sul voto utile quindi è credo fondamentale sul tema di marco cappato adesso discuteremo perché è il tema fondamentale secondo me l'intera campagna elettorale spiega perché noi siamo in campo come popolo della famiglia mi dispiace che piera giacometti non gli piaccia leccato e non va bene quando sono spettinato e non va bene quando sono leccato ragazzi e voi dovete decidere insomma eh eh saluto intanto Massimiliano Amato che è arrivato avete visto è bella giornata a Busto Arsizio oggi ci vediamo invece a Rio Saliceto eh in provincia di Reggio Emilia eh facciamo anche la piazza emiliana per poi volare di corsa in Sardegna per poi andarcene di corsa in Calabria insomma andiamo a visitare anche tutte le regioni che per la lontananza sono più difficili da incontrare e quindi faremo eh un lavoro diciamo capillare di presenza sul territorio c'è anche Filippo Grigolini siamo in tanti oggi per questa diretta grazie voglio dirvi eh che sarà una diretta un pochino più breve perché devo andare a fare queste registrazioni ma non possiamo non leggere la pagina di Vangelo come sempre che tra l'altro è una pagina di Vangelo meravigliosa veramente meravigliosa vogliono l'angelo l'angelo c'è sempre eccolo qua l'angelo protegge le nostre dirette eh Daniela mi dice sei a Rio Saliceto sì mi pare nel complesso fieristico se ho capito bene ehm alle ventuno di questa sera ehm Chiara mi chiede a Vienna faremo Vienna dopo le elezioni Lucia Tognolo Restelli invece testimonia di di gente che va in giro a dire che noi non siamo sulla scheda elettorale in Italia questo è divertente che ci siamo ritirati dalla campagna elettorale ormai eh qualsiasi argomento viene usato per non far votare popolo alla famiglia pensate un po' grazie Lucia di averci denunciato anche questo fatto il Vangelo oggi il Vangelo del giorno e il Vangelo di Luca eh sono quattro versetti del capitolo nove lo leggiamo insieme in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli il figlio dell'uomo deve soffrire molto essere rimproverato dagli anziani dai sommi sacerdoti e dagli iscrivi essere messo a morte e risorgere il terzo giorno poi a tutti diceva se qualcuno vuol venire dietro a me rinnechi se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segua chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per me la salverà che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso questa è la parola del Signore di oggi la parola del Signore di oggi è impressionante eh non è tanto il prenda la sua croce e mi segua che è una frase che più o meno è nel nostro immaginario ma quando si legge il Vangelo con attenzione si legge questo particolare prenda la sua croce ogni giorno e mi segua non è un una cosa generica è ogni giorno ogni mattina come oggi questa mattina meravigliosa con questo sole straordinario che almeno c'è a Roma ma ogni giorno c'è la croce da portare per salvare la propria vita che giova che giova l'uomo guadagnare un quarto posto in lista se poi si perde o rovina se stesso non è meglio testimoniare la verità testimoniare la fede con la croce addosso senza senza certezze o esposti all'attacco di tizio di caio di sempronio di quelli che dicono non non dovete candidarvi dovete votare quello dovete votare quell'altro non votate per voi stessi prenda la sua croce ogni giorno ricordatevi non è prenda la croce e mi segua ma ogni giorno è una scelta che facciamo quotidianamente e quotidianamente c'è qualcosa da pagare e allora ringrazio massimile amato che ricordo al profilo bloccato noi non lo ricordiamo abbastanza ma il nostro dirigente capolista in lombardia al senato fratello di gianfranco amato dirigente in lombardia ha il profilo bloccato da facebook stesse logiche liberticide che denunciamo sempre e anche lui è vittima di queste operazioni perché solo quelli del popolo la famiglia hanno questo trattamento scommetto che il candidato al quarto posto di adoluca buongiorno non ha problemi sul profilo va tranquillo lui sta bene il sistema lo lo ama diciamo così su di noi invece c'è questa attenzione particolare oggi hanno mandato giù anche il sito del popolo la famiglia www.ilpopolafamiglia.it quel sito è un sito dove facciamo attività ed è stato mandato giù dagli lgbt perché ci odiano perché fanno gli striscioni ad inolfi tumori e non li fanno ai convegni del centodestra tanto saluto paolo voltaggio abbiamo invitato per il 24 febbraio alla nostra assemblea nazionale lo ricordo a tutti massima mobilitazione per la presenza a roma per la nostra grande festa 24 febbraio ore 11 e 30 sarà la più grande occasione anche di visibilità mediatica dobbiamo esserci esserci in tanti il teatro è diciamo c'ha oltre 585 posti quindi è un grande teatro tra l'altro il teatro storico della capitale attivo dall'inizio dell'ottocento quindi è uno dei luoghi il salotto di roma viene definito il teatro sala umberto quindi essere presenti è molto importante ania gold dice anche a noi hanno detto che non siete su tutte le schede come facciamo a non essere su tutte le schede su alcune sì e su certe no che fanno sorteggiano ovviamente siamo presenti su tutte le schede emilio sasso ha visto silvia ed è contenta il mio sole è vero c'è pure il sole vero perché oggi c'è proprio il sole in faccia durante questa diretta saluto anna russo salvatore coppola don francesco colamonaco massimiliano esposito giuseppe annicchino finalmente si è scritto al popolo della famiglia ricordate che se andate su www.lacroce quotidiano.it slash abbonarsi trattino ora potete abbonarvi al quotidiano la croce oggi trovate tutte le notizie sul caso cappato su berlusconi che copia il programma elettorale del popolo della famiglia quindi fate un abbonamento e fate un sostegno serio al popolo della famiglia e poi potete iscrivervi magari fate l'iscrizione sostenitore così dato una mano alla campagna elettorale che è onerosissima faticosissima tutti i teatri vanno pagati sono tutte spese tutti i manifesti che avete ricevuto in tutta Italia vanno pagati tutte le spedizioni vanno pagate tutti i milioni di volantini che vi sono arrivati come forma di santini vanno pagati insomma è uno sforzo come capite molto intenso anche dal punto di vista economico dobbiamo se potete fare semplicemente almeno l'adesione al popolo della famiglia noi non siamo quelli come Forza Italia il PD che hanno chiesto 30 mila euro a ogni candidato i nostri candidati si candidano gratis però se fanno l'iscrizione magari da sostenitori al popolo della famiglia fanno un atto corretto o magari si abbonano alla croce danno una mano anche alla causa da questo punto di vista www.lacrocepotidiano.it slash abbonarsi trattino ora oggi al circolo Roma Sud ora 19 c'è la riunione del coordinamento romano informate a Lino Leonardi che ha in questo momento la macchina organizzativa di Roma in mano quindi andate al coordinamento i romani lo dico Roma Sud ore 19 al circolo Roma Sud del coordinamento oggi lì c'è l'appuntamento per organizzare bene la tappa del 24 febbraio ma lo ripeto a tutti 24 febbraio per favore tutti presenti a Roma Elisabetta Montanelli dice tanti mi chiedono chi paga manifesti volantini eccetera eccetera li paga un po' di autofinanziamento dei militanti dei soci che si autotassano e quello che manca lo mette Maria di Nolfi e quindi costruiamo così le condizioni di una partecipazione diffusa sul territorio dove uno mette quello che può e io se posso aiuto e cerco di aiutare il più possibile le spese del popolo della famiglia ora dicevamo questo materiale di Marco Cappato la diciamo così decisione dei giudici di fare una bella cosa alla Ponzio Pilato lavarsi le mani non condannarlo e mandarlo alla corte costituzionale chiedono alla corte costituzionale di fare una scelta su una norma che è chiara nell'ordinamento italiano non si può ripeto non si può aiutare una persona a suicidarsi perché la vita nell'ordinamento italiano è un bene che si definisce non disponibile esistono dei beni non disponibili tu puoi vendere una tua macchina puoi vendere la tua casa non puoi venderti un rene nell'ordinamento italiano non ti puoi vendere un organo tanto per capirci è chiaro esplicito no se lo fai stai facendo qualcosa di illegale perché vendi un'opera un qualcosa che non è nella tua disponibilità se io faccio l'intermediatore e dico vendo reni di poveretti vado in galera a maggior ragione non è disponibile il bene della vita intera come capite bene indisponibile non puoi venderlo non puoi ucciderti non puoi aiutare una persona a dare via la vita in cambio di 18 mila euro come è accaduto nella clinica svizzera dove dj fabbo è stato ucciso cioè quindi una sentenza da fare di colpevolezza per le norme italiane quella è una norma quella sull'aiuto al suicidio che prevede fino a 12 anni di carcere è una norma chiara che resiste da decenni che esiste in cui nell'ordinamento italiano perché l'ordinamento italiano ritiene la vita umana indisponibile bene indisponibile non è una discussione da fare la norma è questa quindi se chiamato a processo cappato deve essere condannato tra l'altro si è autodenunciato sapendo di aver violato la norma e vuole a tre fare una forzatura tramite la corte costituzionale per avere un precedente giurisprudenziale che dice che si può fare quello che ha fatto lui cioè che se uno si affaccia sul cornicione di un palazzo e dice voglio buttarmi di sotto non bisogna fare tutto per salvarlo ma bisogna rispettare la sua autodeterminazione se gli dà una spinta lo stai aiutando a compiere la sua decisione per la dignità della sua esistenza questo è evidentemente impossibile intollerabile un ordinamento italiano prevede altro è un principio basilare del diritto come dice bene dal diritto romano in poi allora adesso cosa fanno i giudici sapevano che non potevano che condannarlo hanno avuto una tiritera c'è una ringa difensiva che invece di farlo il difensore l'ha fatto il pm cioè la pubblica accusa quello che doveva accusare cappato per via dell'evidenza della norma invece di fare l'accusa ha fatto la difesa perché orientata ideologicamente come evidenza no questa è quella donna che ha fatto quella ringa era chiaramente evidente un giudice di sinistra allora davanti al giudice di sinistra e fa prevalere la sua dimensione ideologica e non fa quello che deve essere magistrato studiato giurisprudenza il magistrato deve essere bocca della legge può emettere sentenze in nome della legge e in nome del popolo italiano ora la legge è quella non è non è contestabile non è interpretabile prevede fino a 12 anni di carcere perché la vita umana è un bene indisponibile non puoi non puoi evidentemente aiutare una persona a suicidarsi a meno che non cambiamo la legge ma la legge si cambia in parlamento dove è depositata la volontà popolare allora qui capite perché è così importante che in parlamento ci sia una forza come il popolo della famiglia e solo come il popolo della famiglia non come un centrodestra che un anno elegge la bonino un anno elegge la cappato un anno manda la bonino a rappresentarci in europa e l'anno dopo dice che contro la bonino o ferrara che un giorno fa la lista aborto non grazie e oggi vota ma bonino non è il centrodestra il baluardo su questi valori solo la presenza del popolo della famiglia in parlamento può difenderci dall'avanzata di queste ideologie come evidente non vi difenderanno mai quelli che hanno eletto emma bonino in parlamento c'è il centrodestra l'ultima volta che emma bonino è stata in parlamento è stata da eletta di forza italia e della coalizione di centrodestra l'ultima volta che emma bonino ha avuto un inchiarico di governo importante a livello europeo è stato perché silvio bellusconi il governo di centrodestra l'ha mandata in europa come commissario europeo allora queste valutazioni sono chiare o no le abbiamo chiare almeno noi perché poi io ogni tanto persino i nostri c'è però mi hanno mandato questo documento che dice queste cose io non so come rispondere ecco io oggi ho scritto un documento che mi è costato una notte insonne le vedete questa occhiaia c'è anche chi mi ha detto è troppo lungo il documento è troppo lungo perché ci ho lavorato una notte affinché abbiate un documento definitivo di confutazione delle argomentazioni che come al solito vengono fatte per fiacchiare il popolo della famiglia a dire che è un voto inutile ma ricordatevi sempre che se marco cappato ha quel tipo di 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 trattamento è perché non esiste una forza visibile e consistente come il popolo della famiglia che il 4 marzo questa cosa può questa cosa può cambiare il 4 marzo con il vostro voto questa cosa può cambiare perché se saremo centinaia di migliaia se saremo un milione se saremo più di un milione questa cosa cambia vuol dire evidentemente dire all'italia guardate che c'è un pezzo di popolo sicuramente più rilevante dei radicali che la pensa in maniera opposta rispetto a marco cappato e a mabbonino e non è in quella linea intercambiabile per cui a mabbonino una volta può essere eletta al centrodestra una volta al centrosinistra la stessa cosa tanto poi governano insieme noi dobbiamo fare il lavoro per costruire l'alternativa possibile perché altrimenti come dice filippo martini vicepresidente dei giuristi per la vita se il pdf non entra in parlamento la legge sull'etonesia non è una cosa sicura una cosa certa ieri il caso cappato poi le prime note esplicative del consiglio nazionale del notariato sull'etat tutto è chiaro hanno già scritto l'unica alternativa possibile il voto al popolo la famiglia che svegli l'italia che svegli l'italia che lo renda l'italia in renda chiaro al popolo italiano che disse un segmento organizzato fatto da centinaia di migliaia di persone che non si arrendono alla cultura della morte è l'unica possibilità che abbiamo non ce ne sono altre non ne abbiamo altre l'unica strada che c'è è far vincere il 4 marzo il nostro movimento se vogliamo fermare le operazioni cappato le operazioni giudici pilateschi l'apm che fa la ringa invece di fare la pubblica accusa la corte costituzionale che è pronta a violare la legge perché la legge in realtà è chiara e dire fischi per fiaschi solo noi solo noi abbiamo questa possibilità solo il voto al popolo della famiglia rendetevi conto di quello che dobbiamo fare tanto condividere questa diretta subito condividere subito questa diretta sul vostro profilo farla vedere a tutti invitate le persone per favore a seguire le cose che diciamo grazie a dio non abbiamo magari accesso alla televisione ogni tanto ci danno 5 minuti su una rete e il massimo riusciamo a ottenere ci vedono così e cos'ha ma qui siamo noi allora fate conoscere quello che diciamo questa diretta va intanto fate il mi piace lo sapete dovete fare il mi piace la diretta dovete condividerla dovete farla conoscere in questo momento a più persone possibili condividendola sul vostro profilo e invitando le persone a fare il mi piace invitandole direttamente a partecipare alla diretta con invita amici o segnalando la diretta tramite i vostri contatti whatsapp e vostri contatti messenger grazie ad ania kolezinovska che è una persona straordinaria per il percorso che ha compiuto per la sua realtà dei cuori puri cuori puri è un'esperienza meravigliosa che dobbiamo ad ania kolezinovska per gli articoli che scrive spesso sul quotidiano la croce la ringraziamo per i libri è una persona a cui va tutta la nostra amicizia e il nostro affetto e grazie anche per il sostegno esplicito che ha voluto dare al popolo della famiglia quello che bisogna far capire lo dice federico pieroni bene è che stanno tutti impazzendo e solo il popolo della famiglia non solo conserva ma forse mette un po di sale in zucca simon pietro carta dice faccio conoscere il pdf ad amici e clienti di persona fate questo ora prendete le agendine della vostra del vostro telefonino i contatti chiamateli chiamateli parlateci di persona questa è la campagna di trovare il popolo della famiglia e andate a chiedere un voto alternativo a tutto lo schifo che c'è perché lo schifo cento destra cento sinistra e movimento 5 stelle che dopo tutta questa storia di rimborsopoli con i bonifici fatti poi cancellati ha reso evidente di che pasta sono fatti questi signori non a caso molto il consenso in entrata al popolo della famiglia è un consenso che arriva dal 5 stelle e dite che c'è un voto alternativo a questo schifo da poter dare che è il voto al popolo della famiglia ma io lo devo dire di persona a persone che venivano la vostra agenda che vi conoscono questo è il lavoro che dobbiamo fare in queste ore in questi giorni io vi darò una mano girando una regione al giorno quando capita anche due lo ripeto adesso sono nel lazio a difendere un po' il mio collegio ma lo farò per due ore perché poi vado in emilia romagna per fare la serata a rio saliceto provincia di reggio emilia una provincia che non abbiamo mai toccato e dunque sono lì a testimoniare la presenza del popolo della famiglia con un dirigente che si occupa di quel territorio grazie a mirco de carli che è il nostro dirigente territoriale volerò in sardegna domani in maniera da raccontare alberto acus e tutti gli amici della sardegna donatella lotà eccola qui la nostra capolista alla camera sono a cagliari al t hotel le 17 per la conferenza stampa le 18 e 30 per l'iniziativa dalla cala dalla sardegna volerò in calabria dove invece faremo due iniziative una soveria mannelli l'altra a alla mezzia terme e dunque andremo a parlare anche qui in territori dove è difficile dove dobbiamo far conoscere il popolo la famiglia per la prima volta e dunque andiamo a fare questo tipo di fatica come si capisce dal mio volto non si dorme più si scrivono documenti per tutta la fase notturna in maniera che voi abbiate materiale utile alla gestione delle degli interrogativi che vi vengono rivolti saluto anche giovanni mazzotta nostro capolista nelle marche dove vengo qualche giorno fa sono stato nelle marche c'è stato anche già franco amato vengo dalla bellissima serata di busso arsizio insomma noi stiamo facendo di tutto davvero incontrando ovunque un popolo e facendo di tutto affinché si riesca ad ottenere il risultato migliore possibile del popolo la famiglia alessandra mondelli ha notato che la voce sta scendendo di nuovo d'altronde dovendo parlare ormai ad alta voce e cuvizzi per otto ore al giorno la voce fa quello che può insomma ed è un organo come gli altri l'uso lo logora insomma quindi cercherò adesso di starmene zitto per per un po di tempo io vi ringrazio molto Marilisa Tessari dice i cattolici impazziti perché votiamo popolo della famiglia assurdo anziché scandalizzarsi della situazione dell'italia come messa ha ragione Marilisa è un'assurdità però noi ora dobbiamo prendere atto delle assurdità dare nostra fare la nostra battaglia per svegliare gli addormentati come dice Faustino Cogliandro io saluto Margherita Caruso bisognerà allearsi con chi va al governo bisognerà costruire un'alleanza di governo che è una cosa diversa con i nostri parlamentari decisivi costruiremo un'alleanza di governo l'ho già detto a Rai 3 con l'opzione preferenziale per il centrodestra perché così manderemo finalmente il centrosinistra all'opposizione è una opzione che passa attraverso la l'affermazione del popolo della famiglia se il popolo della famiglia ce la fa manda il centrosinistra all'opposizione altrimenti fanno l'inciucio centrodestra centrosinistra è tutto già scritto è tutto già scritto Donatella Lodà è divertente come scrive riposati sembra mia nonna quando andavo a giocare a calcio mi ricordo andavo a giocare a calcio per strada con gli scugnizzi napoletani mia nonna era napoletana mi diceva mi raccomando ma non sudare e come faccio a giocare e non sudare nonna riposati è impossibile in questa fase non c'è spazio per il riposo abbiamo 16 o 17 giorni si fanno praticamente senza dormire viaggiando come capite da un posto all'altro quindi rincorrendoci ieri mi sono svegliato in Lombardia adesso sono in Lazio stasera dormirò in Emilia Romagna domani sarò in Sardegna la settimana dopo in Calabria voi capite da soli che questo tipo di spostamenti anche solo per gli spostamenti rende impossibile un vero riposo facciamo tutto questo una fatica enorme per ottenere il miglior risultato possibile prendo Monica Consigliere che mi dice devi andare a porta a porta andare a porta a porta c'è da Bruno Vespa non è che bussi e dici sì sì mi fate sedere ti devono invitare ovviamente se non ti invitano dobbiamo fare altrimenti ricordandoci sempre che il family day nacque senza una riga sui giornali senza una parola in televisione cioè noi ci ritrovammo in un milione in piazza senza che nessuno avesse mai parlato di noi quindi non ci facciamo ossessionare da questa dimensione della comunicazione è importante certo ma la cosa più importante è andare a parlare dalle persone come dice Dario Roberti Damose da fa quindi andiamo per strada a incontrare le persone andiamo sulla nostra agendina a vedere chi sono quelli che ci votano e quelli che non ci votano facciamo un lavoro serio per ottenere il risultato che ci siamo preposti cioè il miglior risultato possibile per il popolo della famiglia noi questo dobbiamo fare in questo momento il nostro lavoro è andare a parlare con tutti e riuscire a parlare con tutti con ogni persona possibile e attraverso queste parole costruire il consenso al popolo della famiglia Mirta Sartori dice il signore ti dà la forza di andare avanti e Monica consigliere dice devi proprio avere l'angelo custode io senza donna senza sonno sono donna sull'orlo di una crisi di nervi beh anch'io proprio tranquillo tranquillo non sono però è vero che il signore dà la forza perché fisicamente sarebbe impossibile ogni giorno mi trovo in un momento della giornata in cui dico non ce la faccio più non ce lo dico veramente non ce la faccio più a un certo punto della giornata di solito la sera tardi dico ho detto anche a un mio amico che mi accompagna spesso in questi giri c'è qualcosa nel mio corpo mi sta dicendo che sono arrivato al limite però bisogna fare così non ho alternative non abbiamo alternative sono certo che tutta questa fatica che sto mettendo io in campo la sta mettendo ogni singolo militante del popolo della famiglia lo sta facendo mettendo tutto se stesso in questa battaglia che vuol dire metterci il corpo metterci la fatica metterci l'incontro con le persone quotidiano con tante persone per costruire consenso sono certo quello che faccio io lo fa ogni singolo militante del popolo della famiglia fino all'esaurimento delle forze perché veramente abbiamo solo questa occasione o abbiamo questa opportunità che si è aperta miracolosamente per il movimento pro femmine pro life o noi ci ritroviamo nella situazione descritta di marco cappato che praticamente ha già vinto che si è fatto mandare alla corte costituzionale ha ottenuto quindi per questo già la legittimazione che voleva perché diventasse discussione questo tema e vedrete che poi alla fine la corte costituzionale delibererà pure in suo favore nonostante la norma sia chiarissima che cioè la vita sia indisponibile che aiuta a suicidarsi deve essere punito fino a 12 anni di carcere dunque se non potete far altro che dare fastidio al pdf state dando fastidio all'unica opportunità che c'è di far crescere l'alternativa al radicalismo alla cappato dunque vi siete assunti una responsabilità grave io ho provato a confutare ogni punto lo ripeto in un documento che è precedente a questo documento il documento che trovate in bacheca qui su facebook precedente a questo post andate e fate qualcosa per farci conoscere giusi de marzo dice in effetti qua in calabria di questo partito non si sa nulla e per questo vado io in calabria dopo domani per farlo conoscere un po' di più oggi sui giornali calabresi qualcosa è uscito vi ricordo a tutti il 24 di febbraio assemblea nazionale dobbiamo andare in tv facciamoci vedere in una marea il 24 di febbraio teatro sala umberto ore 11 e 30 è un sabato potete entrare tranquillamente al centro storico di roma quindi 11 e 30 via della mercede 50 sala umberto esserci tutti quella sarà l'occasione in cui media verranno a filmarci a vederci e dunque sarà l'occasione per dire qualcosa di importante saluto manila mattei saluto ester corona saluto giancarlo stival rosanna orlando eh il mio amico marcial muster mi raccomando il 24 febbraio tutti a roma tutti a roma eh saluto anche annita bianchi che dice a napoli volantini dove si prendono ovviamente si prendono dagli amici napoletani giuseppe focone paolo buonaiuto a salerno da raffaella di nolfi insomma troviamoci tutti intanto a dare il nostro simbolo in giro a farci conoscere io adesso da fare qualche intervista che spero aiuti a fare conoscere ancora di più il popolo della famiglia scappo perché mi aspettano alle redi mediaset noi ci ritroviamo eh con stampa e vangelo ormai lunedì perché facendo viaggiare in questa maniera diciamo così rimbalzando dall'angolo all'alto dell'Italia ci ritroviamo lunedì lo ripeto oggi sono in Emilia Romagna domani sono in Sardegna dopo domani sono in Calabria quindi chi vuole trovarmi in queste tre regioni mi trova fisicamente a Rio Saliceto a Cagliari a Soveria Mannelli e alla Mezzia Termi ehm vi ringrazio davvero se potete pregare per dare forza al mio cammino siete eh davvero amici e fratelli vi ringrazio per ogni singola preghiera rivolta nei miei confronti e a per intercessione a sostegno della fatica compiuta io vado avanti usate il documento che ho scritto stanotte e per tutti i punti interrogativi che avete rispetto la risposta da dare a quelli che vi chiedono ehm la storia del voto utile eccetera eccetera non vado a Mediaset adesso vado a registrare a Mediaset delle cose che andanno in onda nei vari programmi di Mediaset ehm io vi saluto vi chiedo di fare un ultimo mi piace a questa diretta una condivisione della diretta stessa invitare gli amici a seguirla ringrazio Don Francesco Morcavallo che mi invia la sua benedizione anche alla mia famiglia che ne ha certamente bisogno da Maria di Nolfi un saluto a tutti voi noi ci ritroviamo lo ripeto con stampa e vangelo lunedì ricordo lunedì che è diciannove di febbraio da Maria di Nolfi un buon fine settimana a tutti e buon lavoro buona campagna elettorale Perfetto Pag. Perfetto